Sì, molti loro. La Giulietta la piccola che ha un amore. Un amore. C'è quella foto che condividiamo ogni tanto. Sì, è che c'è dell'acqua di tempo fa. Sì, sì. Dai, dai, dai. Sì, sono figure. Sì, sono figure. Dai, ma non è. Invece, non è caduto. Sono quelle che sono qui. No, dai. No, dai. Allora, adesso. Sono, dai. Allora, dai. Allora, dai. Allora, dai. Ecco, non è, anche la faccia. Non è caduta. Non è caduta. Accettate, che la faccia. Allora, stai chiuscola. Allora, c'è quello. Non è caduta. Allora. Buongiorno 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 Ah, forse entrava con Momo lui No, Momo entrava con il figlio Con Serena Porco Anche la lampada Buongiorno Oh no Mamma mia Buongiorno Ya Perfetto, madonna! Grazie a te! Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti